Ciao ragazzi, sono Enzo Celani e sono un ex studente del liceo Maccari. Mi sono diplomato tre anni fa all'indirizzo linguistico, dove ho studiato inglese, francese e tedesco. Il liceo mi ha dato modo di conoscere queste lingue straniere e di farmi appassionare appunto alle lingue e alle culture straniere, tant'è che oggi sono laureando in traduzione e interpretariato di lingue straniere e studio le stesse lingue che studiavo al liceo, più lo spagnolo. Il liceo mi ha dato appunto modo di conoscere bene queste lingue e di toccarle con mano e mi ha dato anche modo di viaggiare, tant'è che ho fatto tre stage, il primo a Edimburgo, il secondo a Dublino e il terzo a Berlino, dove ho avuto modo appunto di toccare con mano le tradizioni, le culture e proprio la lingua dei paesi che ci ospitavano. Sono state delle esperienze stupende che rifarei anche oggi. Ma per me il Maccari non rappresenta solamente lo spazio dove ho conosciuto le lingue straniere, se non rappresenta casa. Il Maccari è stato la mia casa per cinque anni consecutivi e sono anche stato rappresentante per due anni, ciò vi fa capire che ci tengo veramente a quest'istituto, perché è l'istituto dove mi sono sentito pienamente a mio agio, come se fossi veramente a casa mia, è stato lo spazio dove sentivo di potermi esprimere al 100%. Si dice che gli anni del liceo sono quelli che ti formano come individuo e io non posso essere più contento di aver scelto il liceo Maccari, perché era la scuola adatta a me e spero sia lo stesso anche per voi.